... Piano piano... Sì, sì... Terza e l'ultima parte della nostra rassegna, stavamo parlando di Roma, tornata al secondo posto con un 3-0 tripletta di salà, allora analizziamo questo tema sempre attraverso il Corriere dello Sport, che appunto titola in neretto, sblocca salà, perché la Roma ci mette in realtà un po' a carburare e per i primi dieci minuti soffre un Bologna molto spavaldo, ma fa capire che avendo spazi aperti a disposizione può far male. All'undicesimo arriva il primo guizzo di Dzeko che sfiora il palo, due minuti dopo i giallorossi passano in vantaggio con salà, che finalizza una grande azione di Perotti che guizza tutto a sinistra, arriva sul fondo, decisiva la deviazione di Masina sulla conclusione di salà, che è trovato in modo esemplare da un assist raso a terra dello stesso argentino Perotti. Masina beffa il compagno di squadra, il portiere da costa, il gol taglia le gambe al Bologna, la Roma ha diverse opportunità per raddoppiare, ma sbaglia sempre di qualche centimetro. prima con Dzeko una gran giocata, poi Nainggolan proprio di un niente ancora con Perotti. Il Bologna ha una grossa chance per pareggiare al 33esimo Massadik, lanciato a rete da un retropassaggio quasi kamikaze di Strotman, viene anticipato proprio di un soffio da una grande parata di Scesni, una delle poche di giornata. Dopodiché nel secondo tempo si scatena Salah con una tripletta, in avvio è però subito Dzeko in pensieria di Bologna, con Dacosta che respinge in due occasioni anche se affatica, al cinquantesimo via Sadik dentro un altro ex romanista destro, però il Bologna pure alzando il baricentro sbatte contro una compagine arretrata molto compatta, con un Rudiger che dopo aver giocato 90 minuti giovedì contro la nostra Vienna, Spalletti gioca bene fino appunto al cambio, poi Spalletti che è retra dei rossi e inserisce Paredesi e Regia, allunga la qualità tecnica della squadra. Al cinquantottesimo Salah va via Masina e supera Dacosta in uscita, ma Giacomini annulla la rete per una presunta trattenuta dell'egiziano, la decisione fa infuriare lo stadio olimpico e Spalletti, ma Salah ha comunque tantissimo spazio in campo aperto in tutta questa seconda parte di gara, al sessantaduesimo infatti firma la doppietta raccogliendo un bell'assist in verticale di Strottman, che ringhia e conquista un'ottima palla in break, l'egiziano non è ancora sazio, al settantesimo firma la tripletta dopo l'ennesima galoppata sulla fascia destra, un assist a Giacomo il cui tiro viene respinto corto dal portiere Dacosta e Salah a porta vuota, fa Tris, Salah che sfiora anche il quarto gol, troppo diciamo leziosismo ma anche la volontà di far segnare i compagni, ancora due volte vicino al gol, ancora vicino anche al gol lo stesso attaccante Edin Dzeko, sfortunata poi la Roma perché Bruno Perez chiede il cambio per un problema muscolare, e lo stesso Paredes che poi ha risentito di una noia nella parte finale del match, le solite pagelle del Corriere dello Sport che esaltano i protagonisti di questa Roma stralipante, otto e mezzo il voto per appunto uno stralipante Salah, qui inginocchiato nella sua celebre esultanza, ha asfaltato la fascia come perotti dall'altra parte, brevissimo con voto 7 in pagella, lo stesso voto che si becca Daniele De Rossi, un'altra prova convincente, prima con lanci minimetrici a centrocampo, poi con grande intelligenza tattica da difensore aggiunto in finale, 6 per Rudiger, ancora voti alti per lui, e 6 anche per Kevin Strotman che nonostante una fase di difficoltà fisica riesce a esaltarsi nella seconda parte come un diesel, recupera un ottimo pallone e serve l'assist per i gol che tranquillizza la tifoseria giallarossa, i gol del 2 a 0 di appunto Mohamed Salah, è la notte dell'egiziano che aiuta la sua squadra a inseguire la Juventus, sta beneficiando Salah della cura Spalletti, lo ha avvicinato molto più alla porta, è la prima tripletta per Momo, non segnano quindi soltanto Dzeko, Nangolan e Perotti, ma anche l'egiziano, 29 i gol per i giallorossi che diventano per distacco, il migliore attacco del campionato davanti al Torino, e soprattutto si portano a 26 punti, ricordando ovviamente che poi ci sarà una fase cruciale a gennaio, quando però Salah mancherà per via della famosa Coppa d'Africa, ne ha parlato di questo anche Spalletti in conferenza stampa post-gara, ha detto noi spumeggianti siamo una squadra vera, anche se ha tenuto a rimarcare che questo vale più per il secondo tempo, che non per il primo, abbiamo fatto malino all'inizio della gara, quando abbiamo spesso innescato le marce basse, faccio i complimenti ai miei ragazzi per la ripresa, dove abbiamo trovato più equilibrio, ora però ho visto soprattutto una cosa importante, ovvero che i ragazzi non ci stanno più a perdere, non so se siamo l'anti-Juve, se si va a vedere che nell'ultimo periodo abbiamo preso punti su tutti, è un dato di fatto importante, siamo una squadra vera, la sosta comunque ci vuole, per esempio Paredes ha corso il rischio di uscire poco, per essere stato in campo per un infortunio, e sono tanti i giocatori da recuperare, Salah ha anche detto a sua volta che è felice per la tripletta, un momento importante per lui, e che confida nella squadra, qualora mancherà appunto a lungo per via della Coppa d'Africa con il suo Egitto, una Roma che non si ferma, quindi come scrive anche Ostini sul tempo, esaltando anche alcuni degli altri protagonisti, come ad esempio lo stesso De Rossi, una buona parte anche finale, come difensore centrale, quando ha preso il posto in difesa di Rudiger per un minutaggio ridotto, visto il suo rientro graduale dall'infortunio, a centrocampo, in cabina di regia al suo posto è entrato Paredes, che quest'oggi ha parlato del tema anche della sua presenza nella Roma, anche attraverso le frequenze di Roma Radio, e queste le ampie parole dall'amicizia con i turbe e con Perotti e Fazio, chiaramente legati più che altro per un discorso di lingua, un adattamento ormai evidente per il numero 5 giallorosso, che è tornato a Empoli con una maggiore consapevolezza e con anche un ottimo rapporto con il mister, che questa estate, Luciano Spalletti, gli aveva chiesto fermamente di restare, un centrocampo insieme a De Rossi, Strootman e Nainggolan, ai quali Paredes dice sono felice e fortunato di averli in squadra, di essere in squadra con loro, perché da loro posso imparare molto, un altro da cui ho imparato tantissimo è Enrique Elme, uno degli idoli di un po' tutta una generazione di calcio argentino, è stata una persona importante dal punto di vista professionale e personale, dice Paredes, mi ha aiutato tantissimo, sono felice di averla avuto come compagno di squadra e come amico, che atmosfera si trova alla Bombonera, al famoso stadio del Boca Juniors, una cosa bellissima, spero che possa ritrovare la stessa atmosfera allo stadio olimpico, perché appunto da tanto tempo, come sappiamo, l'Olimpico è abbastanza deserto per via delle famose barriere, un olimpico che recentemente si scalda, più che altro quando i pochi tifosi presenti vedono scaldarsi Francesco Totti, che è assente ieri per infortunio, ma ieri ha potuto festeggiare il compleanno del suo figlio undicenne Cristian e quindi avere come regalo un'altra vittoria della Roma, anche dei vari tweet e pagine Facebook intrasate per Francesco Totti e il compleanno del suo erede e poi naturalmente la possibilità di festeggiare la vittoria della Roma. Un altro centrocampista della Roma è Gerson, che potrebbe correre verso il Sub-20, il talento giallorosso è stato infatti convocato dal Brasile per l'amichevole contro il Messico e quindi potrebbe indossare la maglia del Brasile guidato da Rogerio Michale per la prossima grande Kermess di categoria del 2015-2017, scusate, per la competizione che si disputerà in Corea del Sud. Prima però il Brasile deve qualificarsi per questo sudamericano in programma tra gennaio e febbraio in Ecuador e quindi il centrocampista di grande talento della Roma potrebbe essere un elemento importante per questa nazionale. Come potrebbe essere? Sarà sicuramente fondamentale per il Napoli-Milic, che è assente proprio dalla partita contro la Roma per il K.O. subito in nazionale con la sua Polonia. Milic ha detto quest'oggi torno in primavera, ho pianto ma tutto procede secondo i piani, la città è molto calda, non pago mai il ristorante, una volta mi hanno inseguito per 5 km ma mi hanno consigliato di girare in città a Napoli senza orologi, ha detto Ionizzando. Noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione quindi non mi resta che rimandarvi alla prossima edizione della nostra segna sportiva. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.